elder ring no è minusco c'è un signore coi baffi che mi guardate questo è un nuovo sabbago come cazzo si permette gravi rdlc di cercare di prendere il posto di sabbago chi è questo signore come si permette no non si deve io ho avuto il permesso scritto dal signor nomaico che ogni anno posso parlarne poco sto scherzando io ho io bene come il fratello che ho strozza vai te stai zitto e ti fai mettere non ci stanno manchi sotto di dire sti cazzo di giapponi michela nomaico cosa bene dammi di più questo è me ha preso fuoco l'arbero questo è di più che succede a sabbago bello bello questo è ma che schifo ma è l'uomo allora non è male ma non ho capito bellissima frase da incorniciare dai grandi e piccini cioè tipo IGN capolavoro trovo del muori non è male ma non ho capito ha preso fuoco l'arbero ma c'è tra michela ma è un'altra questa è un'altra zona a me sembrava la zona iniziale ma non pare voglio rivedere è un uomo con la faccina sorridente uno che sbratta ma sbaglio io o la musica è proprio sparata non si capisce un cazzo di quello che dice quest'uomo nonostante io parli sopra ok ma anche se non parlo sopra è un albero diverso quello no quello è l'albero di Gino Pippo il nostro singolo questo è l'albero no no questo non è l'albero non è laurelin è telferion questo è l'altro infatti c'ha c'ha le tende è un'altra dimensione ci stava arrivando è diversissimo ma qua magari la terra si è mossa si spacca si spiattella l'albero stancel mi sembrava cioè quindi questa è tutta una zona nuova zona nuova quindi blood must spill e va bene non capisco che cazzo dice allora questo non è che mi hanno riutilizzato il gigante de foco blood of your fellas ok ok il sangue dei tuoi compagni va bene va bene questo è il migliore questo è proprio my brother in Michela questo è un grande chiunque sia io voglio voglio la come si chiamava le ceneri di questo tizio è bellissimo ma che cosa se deve tenere la bocca chiusa con la mano questo ma che cosa se c'entra nei moschi che guaglie c'entra fratello questo è the guaglie eater si è un drago cinese canide ma no no non mi sei piaciuto mica te lo voglio dire attenzione ma pure qui c'è coso è proprio lui è quello di baldu's gate astarion come cazzo si chiama ma questa è Michela questo è Michela questa è Michela questa è Michela formato sul serio c'ha capelli rossi come la sorella io non so perché ma io mi flasho che stiamo dentro la capoccia di Michela cioè noi tu tocchi la mano di Michela e tu imbocchi in questo mondo perché fanno sempre così questa è è la dimensione di Michela io ma non lo so perché ma mi veda è mesmer chi cazzo è mesmer è uno che te mesmerizza è uno che te è appunto la mesmerizzazione vuol dire che te che ti fottono il cervello ok ci hanno messo a balestra la ripetizione fire swag turbodiesel c'è sta una specie di cultura delle capocce dei cane leone mesmer il cugino dello scalatore va bene quindi c'è sta tribù dei capocce dei cane e questo l'abbiamo capito ah poi c'è guarda guarda c'è una sorta dei cavalieri quelli fuori dalla cittadina solo che hanno il furmine viola e che cazzo è un mammutello stanno sopra i mammutelli dei mammutelli porceddi questo che è mia zà mia zà ma tu guarda se mia zà che andasse da un terapista non ci avremmo nemmeno Demon's Soul te fidi che cos'è un ippopotamo pippo questo d'attacca ma che è ma lo vedi io non capisco c'è ragione ma che me lo vedi tra tutto quello che poteva fa diventare un carciofo a giudia era l'unica cosa l'ultima cosa che carciofo a giudia ma che cazzo fa ma lupo ma che cazzo ma non c'è prova manco più dai pupazzelli lego ai figli ti è uniteli un cavallo struppiato no 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 non funziona così la testa ma chi cazzo è questo col serpente ma che è ma chi è questo ma il serpente allora il serpente in elder ring chi era il serpente in elder ring il serpente perché me sto a confondere con Sekiro porca troica Raikard mi rinfrescate la memoria di chi era Raikard allora specie eh sì coso è tutta la questione di quelli di Villa Vulcano together ok era un serpentone perché era un serpentone perché un serpente si era magnato la capoccia sua si vedeva anche nella cazzina iniziale ora questo c'è i serpenti rossi i serpenti avranno a che fare per forza con Raikard o roba del genere i serpenti non c'entravano però con quello là che si era rubato Michela perché era innamorato di Michela io non voglio sapere niente era uno di quelli corrotti quei corniri che gli cicciavano fuori era il fratello di quello là ok quello me lo ricordo ma Michela c'entra forse io sto da per scontato però lì c'è i capelli rossi avendo i capelli rossi deve essere un figlio de erano divisi per i capelli come gli erfi come i Noldor miazzaghi quei capelli rossi deve essere figlio de Radagast e Milena deve essere fratello e deve essere fratello de Milena Malenia come cazzo si chiamano si Radagast povero Radagast un istari che non c'entra niente con tutto questo mondo no lui sta in mezzo alla natura non c'entra niente diventato Ardaful veramente è il del Ringful Radagast vabbè dai questo tizio è fratello de Milena di Michela dai dai ma perché me devi mettere un terzo fratello con la lancia ma mettime Michela che pa guarda i DLC mi fanno un top perché è come il DLC quello là di che era di Arsort 3 che pa alla fine si scopriva che era tutto il sangue quello là col sangue che era tutta un'altra cosa esterna ma mettime le cose che sapevo ma spiegami le robe non mi aggiungi altre cose Miyazaki no è la poesia vabbè andiamo avanti ma chi cazzo sei ma chi è Malenia è Malenia quando va dall'albero la prima volta ma che siamo nel passato questa è Michela come Michela ma perché dovrebbe essere Michela scusami ma è biondo è biondo Vanier ma allora da quello che avevo capito io Michela doveva fa un altro albero suo con giganti de lusso se l'è fregato coso per portasselo e fa il matrimonio omo paritario e ci sta Michela era consensiente non se sa ma quindi questo è l'albero suo what if avrebbe se lui fosse stato il semino di questo albero ma non c'era già questo mini albero tra l'altro non è una roba del genere quell'albero l'ho abbandonato questo è un altro mondo dentro l'uovo ah quindi siamo dentro Michela ogni volta bisogna imboccà dentro robe io piace a Miyazaki dentro quadri dentro gente dentro piccoli pezzi di tela Miyazaki ha parlato di DLC un'intervista come te mi piaci non sai quando parti ma non sai quando torni ammantato irradiuso fulgore e brandisce l'amore per purificare il cuore degli uomini kingdom earth guarda come sta un fiore dovrà essere versato del sangue quello dei tuoi soldi i fedeli dell'albero madre ma chi ti ha detto va va questi questi due spiegano tutto questo quadro bas resort chi è la signora ma chi è quella che ci abbracciava la signora ma mi ricorda quella no non è quella il tizio è quello alla fine con la lancia ah è sempre gente mi sta sul cazzo che questi DLC non fanno altro che aggiungere gente non mi spiegano quella prima mi fa incazzare non voglio sapere altra gente mi sono affezionato a quelli di prima mi devi spiegare quelli di prima il pizzellone che ti fa questo veramente questo ti fa cagare sotto questo io se lo trovo per strada mi cago addosso male no ma manco poi poi speculare perché è tutta roba nuova cioè non c'è sta un collegamento aspe c'erano le bestie cioè l'unico collegamento che mi viene in mente sono quelle bestie che una nascondeva la spada del trono delle spade no manco mi ricordo che robe erano quelle boh però non so c'ha le corna dei presaggi dici quindi sono collegati a quei presaggi compreso quello che si ha rubato Michella madre come ho potuto generare al lord un essere privo di luce sta parlando di noi sta parlando di Michella la madre è cosa vabbè la madre è Malenia no non so come cazzo si chiama la real deal la madre di Malenia come si chiama marica che poi c'è il nome proprio più italiano del mondo ma giuditta chiamata concettina quindi concettina è la madre è Radagon è il padre quindi questo è fratello di Malenia mai sentito mai visto mai cagato mi fa un cazzà è veramente è un retcon questo di casi retcon signore trono rompi al cazzo si ma chi sei non ti conosco però vabbè eh oh se è Michella Rinato se è una cosa che c'ha senso allora me sto zitto ma chi è l'essere senza luce no la balestra mitagliatrice è sempre stato un must have flamina dai tempi del DLC tra l'arte e d'arzo l'uno davanti a Artorias ci sta quello che ha la balestra ripetizione noi siamo i senza luce e vabbè e quindi questo questo è proprio un protagonista anime no ma che protagonista Dio Brando Yuzza quelli che se senta se entrano Calle e fa noi siamo meglio madre proprio come è potuto questo è un mezzo coglione ha solo finito il gioco agli allo 666 ha sbragato tutti i boss secondari ma son meglio io pe 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 se Shomaru di Nuyasha quindi lui vuole proteggere il sogno di Michella ah MESMER nell'abbraccio della fiamma di MESMER ma poi la fiamma era del caos ma lui che cazzo c'entra col caos questo è un altro tipo di fiamma non è la fiamma però c'era lo stesso colore poi la usava pure quello del sangue il boss che stava all'adanti il fratello de coso poi lui dice la fiamma di MESMER MESMER può essere pure un altro MESMER inizia con la M pure lui quindi sì lui è uno dei fratelli con la M parti per il regno dell'ombra e lo vedi vabbè ma se vedeva tu devi allora e se entra così nel DLC però che cringe te lo dicono una volta dovevi proprio fatica devi andare da Michella tocca al braccino e imbocchi qua dentro eh ma se vedeva ma guarda però non sono stati bravi loro al braccio sembrava molto non so perché ma è venuto a mettere il dipinto da Riamis però poi tutto il resto non sembrava lui quindi boh ma porca troia ma scusa ma hanno un po' di ferdi alleccite quella stronza che ci viene appresso che può essere che sia la vera morte e ci spieghi qua la stronzata ma porco Giuda ma quanto ne ho aspettato 10 anni ma uscirà un altro ma perché devi far così ma perché devi far così ma magari c'è Jerry ma io lo spero però vabbè no te spiegano Malenia te spiegano Michella ci sta ecco Michella allora corsenote poi vabbè questo è il boss per spiegare a te Michella te buttano un altro personaggio che è sto dizio qua che te lo stanno proprio pompando vogliono che sia il nuovo Artorias però Artorias non era un retcon Artorias era pure nel gioco originale mi pare che te lo nominavano c'erano pure le statue però dai allora io sono sempre molto critico rompicoglioni eh ma perché non sono un leccaculo primo e due poi me calmo quindi adesso a mente fredda se mi spiegano Michella va bene è logico che ci sia qualcuno nuovo nel DLC è logico ma che sia il fratello cicciato fuori a caso me fan cazzà se nel DLC te dicono che non c'è nessun fratello se l'è creato Michella la psiche qualcosa ci sto non so se vi sembro troppo irragionevole c'ho pure il lupo no non è possibile che non sia parente suo si chiama con la M c'ha i capelli rossi parla alla madre come è fatto la madre è una di qualcuno di serio potrebbe non essere il fratello però sembra uguale a quell'altri due più un cazzato magari è Michella reincarnato ma sta parlando del disegno del gentil Michella come se fosse una cosa esterna o parla di sé in terza persona come il mago Telma ma no questo sembra più un protettore del sogno di Michella io già me l'ammagino la storia dove lui sembra tutto cattivo sprezzante tu sei una merda poi alla fine si sacrifica io volevo solo fare il bene di Michella e tu fai oh questo è un personaggione tragico bla bla è figlio di Marika l'ha detto Miyazaki ma se vede ma che vuoi battieri con le capelli battieri con quello che cazzo ti pare bandai Namca sorpreso gli appassionati con la pubblicazione del trailer bla 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 abbiamo lanciato il 21 giugno ah dai questa è la prima intervista completa può fornirci qualche dettaglio allora io anticipo subito che dirà ci abbiamo lavorato molto non vediamo l'ora di farvelo vedere minimi particolari bla 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 ma deciccia quasi un cazzo vediamo è una terra completamente nuova la mappa è completamente inedita ave maria separata dall'interregno oscurata da quest'ombra che avvolgerà l'area di gioco potrà essere aggiunta con una sorta di portale si vabbè tocchi Michella in bocchi là però quindi non ci potrai entrare a cazzo cioè non è che stai inizio il gioco e c'è vai prima dovrei fare tutta la parte per arrivare a Michella e poi puoi imboccare è sempre stato così alla fine dai tempi di Dar Sol 1 Dar Sol 2 pure c'erano quella specie dopo i boss c'erano quella specie di fontane sempre così alla fine ma proprio tecnicamente occupa lo stesso spazio dell'interregno il medesimo universo a caso di un evento legato alla storia che non riveleremo oggi quest'area si staccherà fisicamente dalla mappa e diverrà una zona separata da quella principale da molti dopo aver visto l'immagine pubblicata in precedenza quindi è molto signora D'Anelli quindi è successo qualche bordello se sono staccate però è sempre nella stessa dimensione questo è importante poteva essere come Valinor dopo la fine della seconda era che sta proprio in un'altra dimensione prima era nella stessa nelle espansioni i giocatori dovranno tracciare il percorso compiuto da Michella e seguire le sue orme cercando di capire i motivi che si cellano dietro il suo viaggio ma che cazzo vuol dire il viaggio di Michella è bozzolino di merda protetto da Malenia arriva coso del sangue so ruba o porta là fine del viaggio di Michella in che senso ma è tutto nella sua testa quindi prima Michella stava in giro e l'hanno rimbozzolato e si è staccata a sta terra quando Michella stava in giro percorso di Michella dopo l'uovo ma è lì dentro Michella col braccio pronto pa flebbo che esce aiuto datemi una mano chiamate cappato perché non ce la faccio più sta così Michella ma che dite prima dell'uovo eh ma perché prima dell'uovo andava in giro quindi pensate io pensavo fosse una specie di feto comunque sembrava appunto un fratello di Malenia non completamente formato però non è riuscito a formasse perché se lo so rubato cioè qualcuno ha mai detto che prima Michella faceva cose e vedeva gente andava in giro ah si si era imbozzolato come Griffith bastardo meno male che bastardo maledetto è legato alla regina Marica ciò che ha fatto nelle terre delle ombre sarà simile all'interregno beh certo che sarà uguale è un'altra mappa è lo stesso gioco ma è un'altra mappa bro crediamo i giocatori possono aspettarsi un'esperienza simile a quella che hanno avuto Red Ring e grazie al caso la struttura delle terre delle ombre sarà simile con zone open world dungeon su larga scala e aree più contenute vabbè è una minimap è ovvio si può avere una stima approssimativa rispetto a quella del gioco in termini di scala è come sepolcride oh meno male bene se me stava per dirgli urna bestemmiavo tutti non deve essere esagerata oh piccina ci sta se è piccina relativamente è piena di roba meglio meglio dipende quanto devo fanno pagare però no liurna mi ha fatto è troppo grande dà fastidio io non voglio rigiocare Red Ring per il liurna secondo me Red Ring è molto meno rigiocabile di Dark Souls 1 di Bloodborne che P giochi è quasi arcade Dark Souls tu in 6 ore se sei capace a giocare fai quasi tutto defretta però vai in giro esplori via così Red Ring mi mette poi odiatemi che video odiatemi perché diciamo la verità prima parola di Michela per oggi qui fa ne siamo posti molte domande c'è qualcosa di specifico che può dirci sul ruolo che questo personaggio avrà il DLC si il bozzo e il braccio sono in realtà il punto di accesso e va bene ah ma bollirlo proprio così dai dai si si spoiler c'è tutto dove i giocatori entreranno nell'area dell'espansione questo personaggio si è regato in questo luogo per un motivo un obiettivo te lo dico subito te lo dico subito te lo spoiler subito porco allora Michela è quello buono quindi sicuro allora c'era un impiccio tipo Mari che era un po' razzistella tipo no lui sicuro Michela voleva fare l'albero dove tutti sarebbero stati accettati tutti sarebbero stati belli voleva creare la pace tutte ste cazzate fidate fidate Michela non aveva il sogno pacifista ma il suo sogno va bene no non è un'altra dimensione del presente Guanin aspetta cioè è questo che non capisco perché dico noi dobbiamo ripercorrere i passi di Michela ma magari dopo cioè non è che rivediamo Michela che va in giro perché stiamo dentro il bozzolo di Michela alla fine non ho capito questo personaggio si è legato in questo luogo per un motivo un obiettivo vabbè seguirà le sue bombe nello stesso modo in cui ha seguito i luoghi di grazia nell'interregno anche altri pianeti quindi al posto della striscettina delle grazie ci avremo la striscettina di Michela in questo trailer sono stati rivelati molti boss ai nemici sorprendenti e mi chiedevo se potessimo esaminare alcuni uno per uno spiegandoci chi io cosa sono tra una leccata di culo e l'altra magari anche attraverso i racconti di un aneddoto sul loro design mentre io infilo la mia lingua nel suo buscino farò del mio meglio per descriverli perché non ne conosco i nomi per cominciare c'è questa specie di cesto gigante pieno di legna d'arte ma chi è quest'uomo che sta a parlare ma è sabbaco che ha chiesto però c'è il cesto gigante non lo spaventava essere infuocato c'è il cesto gigante pieno di legna che ti attacca ma è bellissimo io mi immagino questo giornalista che torna dalla famiglia papà che hai fatto oggi ho intervistato il signor Miyazaki e di cosa tratta al suo gioco ci sono dei cesti di legno che ti attaccano e prendono fuoco figlio che bello un capolavoro è un genio dal 1972 che è un genio la brace che vedete è accesa quindi papà papà vecchi meme in realtà è il resto dei corpi che sono stati messi lì a bruciare poi c'è il verme assolutamente terrificante ma è tanto carino è il mio personaggio preferito che mangia persone intere e mi pare giusto in ogni caso posso svelare che c'è una connessione significativa tra loro il loro modo di essere le terre dell'ombra so dei sanguisughette che se magnano la capoccia della gente perché per cercare la grazia per cercare qualcosa di bello cosa devo dirci invece dell'uomo vestito di rosso ooooh si tratta di mesmer una figura chiave di questo dlc ok lui è mesmer quindi parla di lui in terza persona quindi è come il mago telma se tu su una sedia simile a mi citano e a chi ha giocato al gioco potrebbe riconoscere l'uno di quelli se una sedia simile al trono e chi ha giocato al gioco potrebbe riconoscere l'uno di quelli della stanza del boss che si ricombatte contro Morgoth ah i troni ma vaffanculo no i tizi questo rappresenta i troni alla base dell'albero madre vabbè è uno figo si trova sullo stesso piano di questi altri semi dei e dei figli di Marika che sedono su questi troni vabbè è un figlio di Marika Malenia è stato un boss onestamente cattivo altro che quel coglione di Sekiro il boss più difficile del gioco un deficiente di foco Malenia era veramente cattiva almeno che non la impari bene Malenia te fancazzare penso che questa sia la fine della storia di Elder Ring o ci sarà spazio per altri DLC la tizia della vera morte non vogliamo dire che questa sia la fine della saga di Elder Ring almeno per il momento probabilmente abbiamo detto una cosa simile anche a Dark Souls 3 vabbè ci sta al momento non abbiamo il programma di realizzare una seconda espansione no ma allora che cazzo era quella che ti viene appresso Miyazaki Miyazaki mi devi dare un finale a quella stronza perché tutte le speculazioni hanno ragione quella con l'occhio strano che ti viene appresso è la vera morte c'ha senso è tutto giusto allora basta però ce lo devi dire anche Michela era interessato eh queste due cose sono interessanti quella da Luna vaffanculo la pischella da Luna che amate tanto tanto è stata ampiamente trattata nel gioco e magari Michela voleva già combattere la bestia e liberare la madre ed è andata nelle terre dell'ombra perché sono le terre dell'ombra perché non c'è la luce della bestia che si è infilato dentro Marika magari già Malenia era contro infatti vuole a fare un altro albero c'è la guerra la prima guerra contro la bestia e Michela ha perso e forse sarà imbozzolato per diventare una bestia di luce pure lui e combatte contro la bestia per diventare un dio perché un dio ci vuole per combattere un altro dio visto che la bestia ha sconfitto tutti gli altri dei il dio del caos quello dei giganti non abbiamo brava passando a domande più retrospettive ci sono state molte decisioni coraggiose nell'ideazione come assenza di informazioni per le quest secondarie coraggioso coraggioso ai tempi di Demon's Soul a Sony che diceva testa di cazzo che gioco di merda hai fatto non si capisce niente mo che ha fatto i sordi scelte coraggiose quella di non dire un cazzo a nessuno senza dimenticare il fatto che molti dei migliori contenuti del gioco sarebbero stati preclusi senza compiere determinate azioni ma lei è un genio del male il tempo di sviluppo si è mai preoccupato di alcune di queste decisioni potessero allontanare i fan tipici 3 2 1 sarebbe una bugia che nessuno del team di sviluppo si è preoccupato di questo aspetto però vogliamo sottolineare che non siamo partiti con l'obiettivo di creare un gioco per world nel senso tradizionale del termine una risposta simile potrei darla per quello che riguarda il tasso di sfida visto che non abbiamo scelto volutamente di creare un gioco differente materializzare qualcosa di stimolante per raggiungere questo obiettivo tuttavia ci siamo affidati a pericoli incogniti e pensiamo che sia necessaria una buona sfida perché il giocatore ha proprio il senso di soddisfazione troppo bro troppo io li urna non me la rifaccio troppo oh ma quanto dura io me ne devo andare vabbè siete tanto bravi grazie a tutti